Salve per la rubrica La Parola, siamo in un locale di Formia, nella zona Santo Ianni, in occasione della dieciottesima edizione di un incontro tra cuochi, esperti, professionisti, indetto dall'associazione Cuochi del Golfo del Basso Lazio. Abbiamo il presidente, onorario, fondatore di questa associazione, non è onorario, meritato proprio, fondatore proprio, creatore. Che ci dici? Già l'anno scorso abbiamo fatto un'intervista in occasione del concorso perché oltre a indire incontri, tenere vicini i cuochi, i professionisti, gli iscritti e soci, prepara e organizza anche concorsi riservati a giovani cuochi. Allora, che ci dici in prossimità del Natale, del nuovo anno? Il prossimo anno per il Natale auguriamo a tutti un felice Natale, un prospero anno nuovo e che l'associazione possa proseguire il suo cammino che ha preso. Nel mese di febbraio apriamo le ledi ai fornelli, una gara indetta alle signore che avevano la gastronomia e a febbraio abbiamo sempre il concorso per pochi professionisti per Angelo Scindetta. Bene, siete andati anche oltre la nostra provincia? Sì, siamo stati in Abruzzo, a Pesco Costanzo, abbiamo fatto una bella serata di pesce con prodotti anche tipici dell'alto sangue. Perché? Ecco, faccio una domanda. Perché di pesce se siete nell'entroterra? Perché noi portiamo la nostra economia per far degustare... Quindi il prodotto del terreno, eh? Sì. Quindi avete soddisfatto anche i palati, degli altri soci o consoci o collaboratori... C'è anche aziende che hanno partecipato con i loro prodotti a Bruzzese e a Caserano. In questa senata è via che ha partecipato come così per il prodotto, per la produzione di dolci, per esempio? Per il dolci ho partecipato alla pasticceria palla di Aresa, per i prodotti di pesce la Zonda Amici e la Pronto Fredto di Fondi. Bene, quindi ecco avete abbracciato varie aziende di varie località. Sì. Però il tutto fa capo a Formia, come località scelta appositamente perché lo merita. No, 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 no. Il prodotto più richiesto pensate che sia il migliore? Secondo voi quale può essere? Lo pesce. Lo pesce. Per esempio, lavorato, compro, preparato in che modo? Non avete problemi perché siete stati... Nel modo più naturale per farmi sentire proprio la freschezza. Bene, allora vi auguro di ritornare alla villetta, sempre pronto, scattante. Avete comunque la collaborazione del figlio, quindi ora vi sentite di gestire più che altro. Per l'esperienza, a che età siamo arrivati circa? Io? Senza dire bene però... 72. Perfetto, e beh, all'età di una... 76 anni in cucina. E hai iniziato dove? A Roma. Allora, quindi l'esperienza fuori... 5 anni a Roma e se ce l'abbiamo arrivati. Bene, allora salutiamo, andiamo a intervistare altri partecipanti in questa serata. Grazie a voi. Dimmi chi può...